Nato alla Grotta Rossa di Rimini in una famiglia contadina, nel 1943 Massimo Tamburini si era iscritto al Liti di Rimini, ma per motivi di salute non era riuscito a prendere il diploma. Il genio però va oltre le convenzioni. Nel 65 fonda con due soci la Bimota, che è nata per occuparsi di impianti di condizionamento, passa poi alla progettazione di telai per le moto giapponesi. Nell'80 è direttore tecnico corse col team Gallina, poi passa alla Cagiva realizzando la PASO, dedicata al campione riminese Renzo Pasolini. Disegna le parti meccaniche e grafiche di numerosi Ducati. Due suoi modelli sono esposti a New York e Bilbao. Le sue moto vantano 20 titoli italiani e 18 mondiali. Nel 2012 il comune di Rimini gli attribuisce il Sigismondo d'Oro. In quell'occasione, premiato insieme al commediografo e poeta dialettale Guido Lucchini, ci raccontò come il mondo dei motori fosse cambiato. Il mondo delle moto ha avuto un'evoluzione abbastanza lenta. Forse è anche uno dei motivi che ha fatto sì che i miei prodotti fossero apprezzati e anche perché gli altri andavano un po' piano. Quando ho iniziato io addirittura neanche conoscevamo il computer, tutto era disegnato a mano con il tecnografo. Guai se facevi un errore perché poi volevo dire perdere delle ore. La tecnologia è andata avanti, l'elettronica unita alla meccanica ha dato dei vantaggi, sta dando dei risultati notevolissimi.